Buongiorno a tutti. Dopo la pubblicazione in gazzetta ufficiale del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che ha diviso l'Italia in tre zone in base alla gravità della situazione sanitaria, è intervenuto il Ministero con una nota del 5 novembre per dare alcune indicazioni di dettaglio per quanto riguarda la scuola. Nei giorni scorsi si era acceso un dibattito tra i docenti circa la necessità o meno di svolgere le lezioni in DAD dai locali scolastici. Sul punto il Ministero è intervenuto demandando sostanzialmente ai dirigenti scolastici la possibilità di organizzare le modalità di svolgimento della DAD in coerenza con le decisioni adottate dagli organi collegiali della scuola e del piano della didattica digitale integrata, tenendo conto comunque che non viene prevista una obbligatorietà dello svolgimento da parte dei docenti dai locali scolastici ma trattandosi soltanto di una opportunità di natura organizzativa. Quindi a nostro parere va lasciata alla eventualmente volontarietà dei docenti scegliere se svolgere o meno la didattica a distanza dai locali scolastici o dal proprio domicilio. Altro punto in cui è intervenuta la nota ministeriale riguarda la didattica in favore degli alunni con disabilità e degli alunni con bisogni educativi speciali. Nei loro confronti prevede il decreto del Presidente del Consiglio che la didattica dovrà essere svolta in presenza e in particolare si dovrà favorire l'effettiva integrazione dell'alunno anche prevedendo la possibilità di far svolgere le lezioni in presenza anche con gruppi di altri alunni, quindi con gruppi di compagni di classe proprio per garantire l'integrazione. Altra ipotesi prevista dalla nota ministeriale è la possibilità di erogare la didattica in presenza in favore dei figli di personale sanitario impegnato nella lotta al coronavirus o di personale pubblici dipendenti che svolgono servizi pubblici essenziali. In questo caso prevede la nota che su richiesta naturalmente per motivate ragioni potrà essere erogata nei loro confronti la didattica in presenza. Si tratta tutte di situazioni che in qualche modo vanno a complicare la gestione della DAD da parte delle singole istituzioni scolastiche perché si verranno a creare probabilmente casi in cui un singolo docente dovrà svolgere al contempo didattica, distanza e didattica in presenza nei confronti di alcuni alunni. Vedremo come le singole scuole andranno ad affrontare e risolvere questi problemi. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.